Voglio creare un quiz servendomi di Hot Potatoes e poi inserirlo nella flipchart. Dovrò prima in risorse condivise creare una nuova cartella che abbia come titolo test. Ecco la cartella, l'apro. Avevo precedentemente preparato un test con Hot Potatoes e l'avevo salvato in HTML. Prendo il file pronto in HTML e lo trascino dentro la cartella nelle risorse condivise del flipchart. Trascino il test quinta HTML nel flipchart ed ecco comparire il mio test che posso eseguire ai ragazzi. Grazie. Grazie.